Potenziare l'asse Giovani Turismo Territorio. Una delegazione cilentana proveniente da Stella Cilento ha incontrato l'assessore regionale Serena Angioli per discutere dei progetti messi a punto per coinvolgere i giovani nello sviluppo del territorio. Lo spunto è stato il progetto Sentieri dell'arte finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del bando Giovani Rigenerazioni Creative in fase di realizzazione presso lo stesso borgo di Stella Cilento. L'assessore ha condotto un proficuo confronto con il sindaco di Stella Francesco Massanova, il vice sindaco Vincenzo Vaccaro, il coordinatore del progetto Toni Viterale e Maria Carmela Inverno, ideatrice del format Sentieri in Campania, dal quale hanno preso le mosse diversi progetti, compreso quello del piccolo comune cilentano e altri tre finanziati dalla regione Campania con il bando Benessere Giovani. Proprio l'elevato numero di progetti in campo nei comuni afferenti la zona cilentana, ha suggerito l'assessore, ci dovrebbe indurre a creare una sorta di coordinamento di zona funzionale all'ottimizzazione dei fondi destinati. Sentieri, infatti, potenzi all'asse Giovani Territorio con azioni che rafforzino le competenze dei giovani e che vanno dalla formazione al tirocinio per giungere alla creazione di impresa. Alla luce della riunione, il sindaco ha proposto di organizzare nel mese di maggio una grande iniziativa che veda protagonisti tutti i sindaci dell'area Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, le associazioni giovanili e gli altri attori coinvolti nelle attività progettuali targate Benessere Giovani. Grazie a tutti. Grazie a tutti.